Per chi crede in Dio, per chi crede in un'entità astratta, un'entità a noi non visibile, a noi sconosciuta, un Dio ipotetico eventuale, sembra quasi che sia apparso Maradona in cielo. Pensate infatti che è stata legata a una foto molto suggestiva, tratta da un video pubblicato nei diversi social network in Argentina, un video girato a Paranà, per la precisione, in cui una tifosa, una donna, va ad alzare gli occhi al cielo e nota un sublime, un epico, un straordinario gioco di luci tra la luna e le nuvole. In quel gioco di luci sembra apparire la sagoma del grande Diego Armando Maradona, scomparso pochi giorni fa di tempo. Infatti vi ricordo che purtroppo è morto, un gioco che trasforma le linee del cielo in questa sagoma che in maniera autentica sembra essere quella del grande, ex cacciatore, del grande fuoriclasse per eccellenza. Dariole, così ha scritto un utente nei social, non credo ai miracoli, però tre puntini, e ha legato questa foto, davvero emblematica, una foto che ha, secondo me, dell'incredibile. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate, fornitemi le vostre opinioni, ci tengo da averle, iscrivetevi al canale, una buona giornata a voi, Dario, non da dove Dario.